È morto Jan Youngblo, portiere dell'Olanda e mondiali del 74 e del 78, unico titolare non proveniente da Ajax o Feyenoord. Non era un fenomeno con le mani, ma riuscì comunque a guadagnarsi la stima dello spogliatoio. Era simpatico a tutti, e soprattutto a Jan Cruyff, che di fatto preferì portare lui in Germania, invece del più accotato Van Beveren, che non poteva invece sopportare. Ancora più importante che Youngblo, era un fenomeno con i piedi, abile nel velocizzare il gioco e anche nell'uscire a valanga sugli attaccanti avversari. Era l'estremo difensore perfetto per l'arancia meccanica. Giocava senza guanti per avere una presa migliore e vestiva il numero 8, dato che la nazionale decise di assegnare, unica eccezione Cruyff, i numeri secondo l'ordine alfabetico. Non essendoci allora lo status di professionista nel calcio olandese, per lavoro faceva il tabaccaio ed aveva una grande passione per la pesca. Si portò tutti gli attrezzi necessari per la sua passione alla spedizione del 74.